Salviamo gli alberi del parco. L'appello è stato lanciato da alcuni genitori di Tromello davanti all'ingresso della scuola materna di Via Togliatti, di fianco alla quale sarà costruito il nuovo asilo nido. Un servizio che al momento manca nel centro di circa 4.000 abitanti, ma che già sta facendo discutere in paese. Non tanto per il servizio in sé, quanto per il fatto che l'area, dove ci sono i giochi per i bambini, di fatto sarà disposcata. Come spiegato dal sindaco di Tromello Gianmarco Negri, saranno abbattute sei piante, indebolite dopo gli ultimi eventi atmosferici avversi, tra cui la tromba d'aria dell'agosto di un anno fa. Il sindaco ha precisato che i lavori del nuovo nido, finanziati dal PNRR, dovranno partire giocoforza quando le scuole saranno ancora aperte, per terminare entro un anno, come previsto dal bando. Negri ha infine sottolineato che lo scopo del nido è incentivare la natalità in paese e di aver dato mandato a un agronomo di stilare una relazione sulle piante presenti nell'area della materna. Una risposta che non convince le famiglie che per tutto questo tempo hanno mandato i figli a scuola, esponendoli a potenziali pericoli per la salute degli alberi. Se è un discorso di sicurezza, allora questa valutazione dell'agronomo andava fatto prima e non otto mesi dopo, perché questo vuol dire che per otto mesi i nostri figli sono venuti a scuola in un ambiente non sicuro. Un nido ha costi di gestione molto molto alti, le rette comunque non sarebbero basse, quindi rischiamo che magari il nido viene costruito e poi per mancanza di domanda, magari nel giro di qualche anno chiude pure e ci ritroviamo con una struttura piazzata lì aumentando il cemento e diminuendo il verde. Gli stessi bambini che eventualmente frequenterebbero il nido poi passano alla materna, il verde mancherebbe per tutti insomma, è comunque un disagio per gli stessi bambini che passano poi dal nido alla materna. I genitori di Tromello avrebbero inoltre preferito essere coinvolti nella discussione sul nuovo nido, anziché sapere tutto a giochi fatti. Per il momento i dubbi restano, se si tratterà o meno di una cattedrale nel deserto. Siamo una comunità e almeno avere un parere, un minimo e prenderlo in considerazione sarebbe stata una buona cosa. Mi piacerebbe veramente sapere qual è lo studio che è stato fatto dietro prima di decidere che il nido serve.